Il collo va molto meglio. Non ha più febbre e la funzionalità epatica è quasi nella norma. Presto potrà tornare a casa. Dovrò pagare il conto dell'ospedale. Non credo che le bambole gonfiabili usate valgano molto online. Dottoressa Adams. Mi dà la sua e-mail? Per farne cosa? Ho pensato che magari potremmo rivederci. Non... non posso. So che è una questione di professionalità, ma non sarà più il mio medico quando uscirò di qui, perciò... Non è per questo, ma... E allora perché? Ha detto che dovrei cambiare la mia vita e parlava anche di se stessa. So che è così. Harry, dovrebbe chiedere a Molly di uscire. Dovevo sapere che sarebbe successo. Lei è una brava persona, Harry. e merita più di una bambola. Mi deve promettere che continuerà a provare. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.